Bello ragazzi come sempre ZAM che vi parla e oggi sono qui per la mia prima partita su Rocket League quest'oggi ci scontriamo con Gods Frax in un uno contro uno no con il maestro con il maestro Frax quindi solo per questo io direi incredibile ma almeno 10.000 like per un altro episodio magari anche con altri membri della Sdrago Crew voglio la palla la voglio io la voglio dentro madonna che mongoli però gira 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 che mu basta una botta dentro tutta dentro tutta dentro tutta traverso devo essere il primo che su Rocket League ha preso una traversa no è vero sei uno dei tanti gira non devi portarla dentro dai 3 no 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 ho sbagliato mira dai gira 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 colpetto di testa no 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 vabbè raga dai non può non può farlo non può farlo illegale Gods Frax si sta portando via la palla a me l'ha caduto si non capisco nulla stanno verso la mia porta oh ma cosa si guarda non vedo nulla si no dai avevo fatto una partita prima hai perso un 14 a 0 non è vero non è vero che bastardo mo fa mo segna mo hai dato un zampetto segna premi x mongoloide guarda che bel gol là no no al vicino guarda quanto no 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 Frax no 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 vaffanculo va piate questo almeno 1 a 1 cazzo se ne ho testa dei cazzo però no 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 perché sta andando verso la mia porta no sono entrato insieme ma la palla il gol più brutto della storia è orrendo guarda guarda quanto ho fatto piano guarda è veramente orrendo guarda che schifo a 27 all'ora c'è la lentezza proprio fatta a persona lo schifo la prendo la prendo tutta al culo vedete che sta riscendendo al ritmo al ritmo c'è sempre lui sulla palla non riesco a capire guarda qua ho calcolato dritto mi si sposta da solo perché quando la colpisco va verso la mia porta dai dai che la mandiamo dentro dai 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 no si si inside no dai che palla le sono pure strappate le cuffie e io pure segnato che palle ho fatto biliardo guarda t'ho colpito con la palla e ho fatto autogoll praticamente ma io non capisco perché sono esploso perché ti ho distrutto la mia potenza mi hai volato non so se hai visto che c'ho non so se hai visto che c'ho la macchina con le corna del bufalo si ma bellissimo se entra bellissimo se faccio qualcosino no fra 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 no oddio se hai affaunato col storico porca troia l'ho rischiata malissimo vieni qua pallina vieni qua pallina dai che andiamo no dai 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 gira 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 che andiamo a rispondere la notte si no il palo di merda odio tutti no che liscio storico no gira di guarda che culo hai non è possibile ma che culo è parata è parata questa è una mano dentro basta no cioè è contro le leggi della fisica il movimento che fa questa palla perché sto volando sul muro perché stai volendo al ritmo della notte è ci credo ma oh vai 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 bellissimo bellissimo attacca il turbo attacca il turbo al ritmo della notte questa palla va dentro dai ma che culo ma c'era il turbo ma che era infatti non so perché guarda non finiva più è partito qui il turbo fino alla fine guarda oh non si è mai staccava adesso è finito dai 3 a 2 incredibile zampa la sua prima partita sta vincendo contro il maestro ci siamo no va dentro io non ci credo sono in aria non scendo più ole 3 a 3 ho fatto uno scontro che in realtà bastava guarda che roba sono volato questo è il bagno da centrocampo di fifa eh si perché sono volato in aria non sono mai più sceso oh mio dai pallina che ti portiamo dentro dai pallina mi piace no hai preso il turbo da cento no hai preso il turbo da porco 2 si 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 no entra entra da sola vaffacura no che ho lisciato dai 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 dammela dammela me che culo di merda datemi il turbo oh oh che hai preso hai preso una palla incredibile perché sto andando verso la mia no no cosa sta succedendo questa palla buttiamola via un minuto è rimasto devo fare un gol siamo in parità tutto questo non va bene non va bene per un cazzo no che mi hai levato scendi scendi pallina scendi no non così ma perché è impossibile dargli una tra ole demolito oh ma non posso rinascere dai no non attenzione perché qui fra può essere pericoloso turbo no che hai preso scendi scendi dentro la porta un bel tiro a spiovere un tiro a campanile cazzo tutto questo non va bene no no l'ho lisciata male guarda che puoi segnare no io sono passato sotto dai che fai autogol dai che fai autogol dai che entra dai che ti faccio entrare dentro tutta dentro tutta dentro ma ci sono supplementari se pareggiamo si non pareggeremo non pareggeremo per un cazzo non puoi averla salvata così non puoi averla salvata così dieci secondi ce la devo fare ritmo no 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 fra fra non puoi farlo fra non puoi farlo sta entrando da sola no gore no ho sfiorato il gore chi è chi segna vince davvero si porca troia no 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 chi segna regna chi segna regna chi segna regna no ho fatto un liccio no vabbè l'ho fatto peggio io l'ho fatto peggio io ho vinto la partita dai 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 palla allontanata ma che cazzo mi hai no no non ci credo non ci credo non ci credo vieni qua vieni qua pallina oddio mio oddio mio questo non può essere vero non sta succedendo veramente no no fra 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 no no fra fra non puoi farlo non ci credo no palo palo che partita Lo sbatto dentro Dai ci siamo Ci siamo Non c'ho più il turbo Vaffanculo tutti Vaffanculo il mondo No no E casca davanti la porta Scendi 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 No Che gli ho levato Sono indietrissimo Sono indietrissimo Non ho più il turbo Non ho più il turbo No fra No Dai che palle Sto sfiorando il gol 80 volte Ma che cazzo è Dai 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 Si No Ecco ancora lì No no Lo sto buttando Verso la mia porta Vai Oh bravo Oh bravo zampa Mi piace quando fai così Mi piace molto Mi piace davvero tanto Si bravo fra Spingimela lì Spingimela Tienimela lì Verso la tua porta La voglio La voglio lì Stavete va dentro da sola No 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 la stavo mandando dentro io Mamma mia Sei dischiatissimo male Dai 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 Piano 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 So che ci sei Lo so che sei carica Sei carichissima Va dentro Va dentro Va dentro Spara dentro No No Dai No Ci ho vinto No vabbè No vabbè Guarda come mi sono passato sotto No ho fatto un gol spettacolare Guarda No Se saltavo È uno spettacolo La mia prima partita Se saltavo Hai vinto Non ci credo Io la rivincita Allora Facciamo così signori Se arriviamo E ci dobbiamo arrivare A 10.000 likes A questo video Daremo una rivincita A Godsfrax Bastardo Come sempre Spero che questo video Vi sia piaciuto Ringrazio Frax per la sua presenza Spero che il video Vi sia piaciuto In caso vi sorto lasciare Come sempre Mi piace Commento Se non l'avete ancora fatto Iscrivervi al mio canale Siamo con un prossimo video Bella ragazzi Ciao da Zampetti Lascio salutare Frax Bella Ciao da Zampetti